E si conclude qui questa prima settimana d'autunno 2020, oggi venerdì 25 settembre, arm wrap 20 minuti, 200 metri di corsa, 21 kettlebell swing, 12 pull up, poi ancora 200 metri di corsa, 21 slam ball squat e 12 slam ball, molto carino per chiudere la settimana. Per le scelature sulla grafica, come sempre, vi auguro un buonissimo weekend, anche se siamo in autunno, ma tanto è praticamente ancora estate, noi ci vediamo lunedì per iniziare e fare insieme un'altra settimana su Ciper TV. Ciao!